Sabato 6 luglio inizieranno i saldi, sentiamo le opinioni dei rodigini, quanto spenderanno e se avranno modo di comprare qualcosa. Beh, probabilmente sì, un budget non troppo alto, comunque ristretto, magari su 50, insomma, non troppo ecco. Probabilmente sì, con un budget anch'io non troppo alto, però si andrà comunque a comprare qualcosa. Ma allora, io non sono mai andata a saldi perché quello che di solito compro, lo compro quando mi piace, quando ho tempo, quindi non mi sono mai interessata fondamentalmente a comprare con i saldi, quindi vado sulle cose che mi piacciono e quando mi piacciono le compro. Allora, sulla cifra non ti so dire, però sicuramente sì, è un momento che si aspetta durante l'anno, quindi sì.